L'oro della tavola molisana, uno dei prodotti genuini della nostra terra, immortalato in immagini artistiche e creative. È la seconda edizione del concorso fotografico, buono da scattare ed ideato dall'azienda Lembo di Campobasso. Tra le novità di quest'anno, la collaborazione con la Spagna, grande produttore di olio. Dopo la premiazione delle foto vincitrici in Campidoglio lo scorso 9 gennaio, la mossa è stata inaugurata anche a Campobasso. Durante la conferenza è stata presentata all'anionata associazione culturale Un Lembo di, spazio creativo dedicato ai giovani. Grandi risultati soprattutto grazie alla partecipazione di tantissimi giovani che sono stati veri protagonisti e la vera rivelazione di questa seconda edizione del concorso buono da scattare. Oggi anche la presentazione di un'associazione internazionale, Un Lembo di. Un Lembo di è la creazione di un nuovo organo di divulgazione e di formazione culturale che vuole unire e abbracciare più tematiche e più ambiti creativi nell'ambito culturale e vedendo sempre il giovane come al centro dell'attenzione, non soltanto come protagonista ma anche proprio come esecutore di tanti progetti, di tante iniziative che partiranno da oggi in poi. I nostri prodotti devono essere conosciuti nel mondo, così ha commentato il sindaco Battista che ha applaudito all'iniziativa sottolineando come il futuro del Molise sia legato all'esportazione delle nostre eccellenze. Se noi rimaniamo chiusi soltanto al nostro interno, soltanto sulla nostra città o sulla nostra regione, anche se abbiamo prodotti di grande qualità e non riusciamo a sfondare sui mercati internazionali utilizzando più meccanismi, più vettori, più fattori, probabilmente non usciremo fuori dalle difficoltà che noi stiamo vivendo. Invece occorre utilizzare meccanismi e sistemi innovativi. In questo caso c'è stata una bella intuizione da parte della famiglia Lembo nel promuovere arte e prodotto di qualità. Tra i partner dell'iniziativa anche l'Università del Molise che ha evidenziato come l'Ateneo sia strettamente legato al territorio e al suo sviluppo. Tra le missioni dell'Università noi facciamo didattica, ricerca, ma siamo assolutamente aperti verso il territorio, verso le istituzioni, verso le imprese, con i nostri dipartimenti per promuovere tutte le attività culturali, ma anche imprenditoriali di questa regione per allargare le potenzialità di questa regione, che sono molteplici, sono tante, ma hanno bisogno forse di una spinta e l'Università deve fare questa azione, è una delle sue missioni. E può farlo perché abbiamo le capacità, abbiamo il know-how, abbiamo le competenze. Grazie a tutti.